e rieccoci qua cari amici bentornati in questa nuovissima puntata di mike and beer il podcast dedicato alla birra a 360 gradi prima di iniziare vi voglio dire due cose ovviamente mi sono tagliati i capelli prima di questo decreto che appunto ha visto chiudere parrucchieri e molti altri esercizi e la seconda è che vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube di schiacciare sulla campanellina per non perdervi neanche un nostro video e mi raccomando lasciateci anche un bel mi piace iniziamo subito oggi parliamo di un argomento molto interessante ovvero parliamo di quel galateo birrario o comunque della degustazione della birra un argomento molto interessante che può arricchire anche questa volta il nostro bagaio culturale minimo cioè nel senso se non vogliamo avere una cultura particolarmente elevata della birra o comunque avere tantissime nozioni sulla birra beh la degustazione è una cosa che dovremmo avere tutti almeno per giudicare e saper degustare al meglio una birra per capire quale tra i tanti tipi che abbiamo in commercio è la nostra preferito comunque quella che ci rappresenta proprio di più in generale per quanto riguarda il gusto ci sono molti fattori che influenzano la degustazione di una birra abbiamo i sapori olfattivi gustativi il colore insomma per degustare una birra ci sono diversi parametri da tenere in considerazione un parametro che forse viene sottovalutato è quello del bicchiere il bicchiere può sembrare scontato noi vediamo che comunque nei ristoranti nei pub soprattutto nei pub comunque ci sono dei bicchieri tipici per ogni tipo di birra cioè se siamo con degli amici io ordino una vice e un altro mio amico ordina una birra inglese più scura come una ale avremo un servizio diverso anche il bicchiere quindi sarà diverso questo perché ogni bicchiere caratterizza ed esalta i gusti di una particolare birra se inizialmente quando non era ancora conosciuto il vetro o comunque non era utilizzato il vetro venivano usati materiali come legno osso rame eccetera che davano una nota diversa alla birra perché perdevano il gusto negli anni si è passati a materiali come oro e argento ma destinati alla fascia alta della popolazione quindi ai ricchi pian piano si è arrivato al si è arrivati al vetro e poi avendo scoperto la produzione di vetro con l'ossido di piombo e quindi si è riuscito ad ottenere un vetro al 100% trasparente si è iniziato a esaltare anche i colori della birra e non solo il gusto ovviamente il bicchiere di birra deve essere abbastanza capiente per farsi di contenere il liquido e la schiuma che è di particolare importanza ragazzi non pensiate che quando vi servono una birra con molta schiuma sia sempre negativo ovvio deve essere abbastanza proporzionata diciamo comunque una presenza di schiuma anche per qualche centimetro diciamo che è molto positiva perché la sua funzione è quella di produrre il liquido e non la schiuma ha il compito di proteggere il liquido da eventuali ossidazioni che specialmente in birre non pastorizzate può essere molto semplice ottenerla e questa cosa dà un sapore sgradevole e altera il gusto della nostra birra preferita quindi per ogni tipo di birra abbiamo un particolare bicchiere per esempio per le pilse e per le lager che non hanno dei gusti così tanto forti dobbiamo esaltarne le caratteristiche con dei bicchieri stretti e allungati perché così riduciamo il contatto con l'aria e la dispersione di aroma della birra in modo da poterla degustare al meglio le ale le trappiste le stout e altri tipi di birra da il carattere molto intenso e molto forte decidono di un bicchiere leggermente più aperto più svasato appunto sempre per il fatto di esaltare i sapori e far sì che emergano adeguatamente abbiamo anche bicchieri a forma di calice abbiamo anche quelli con la maniglia per far sì di evitare di scaldare la nostra bevanda all'interno del bicchiere comunque abbiamo veramente una tipologia di bicchiere per ogni stile di birra in generale il bicchiere però prima dell'utilizzo deve essere sciacquato per far sì di evitare di togliere tutti quei residui che possono interferire con la produzione di birra e in più l'acqua da utilizzare è acqua fredda perché diciamo che il bicchiere deve essere tendenzialmente raffreddato per far sì che la birra riesca ad essere conservata al meglio e servita al meglio inoltre va tenuto leggermente inclinato in base a che lo stiamo versando con la bottiglia da una lattina o dalla spillatrice va tenuto inclinato per i tre quarti del suo volume dopodiché messo in verticale e versata la birra anche molto più velocemente per far sì di sviluppare come già detto quel poco di schiuma che insomma può anche essere 5 centimetri di schiuma che ci aiuta a conservare la birra il sapore della birra il modo peggiore inoltre per degustare una birra è berla direttamente dalla bottiglia anche se questo non vale per una speciale birra ovvero la corona extra in cui è consigliato berla proprio dalla bottiglia perché il collo stretto e lungo fa sì che l'aroma venga esaltato al momento della bevuta un bicchiere tipico da degustazione è l'alt glass un bicchiere che ha il compito di esaltare i gusti i sapori e la schiuma delle birre alt e questo alt glass ha una forma cilindrica molto allungata che permette di mantenere la freschezza e di inalterare il gusto delle alt per quanto riguarda le lager per esempio abbiamo il bicchiere a forma di tulipano a calice di tulipano una forma particolare che permette di appunto far sì che la schiuma copra totalmente il liquido cioè la birra liquida al sottostante e impedisce l'allargatura della bocca ovviamente di far sì che la schiuma non fuoriesca anche questo bicchiere ovviamente come tutti i bicchieri da degustazione serve per impedire l'ossidazione della birra e mantenerne il gusto e l'aroma il calice a tulipano grande invece permette di degustare al meglio le ale inglesi le doppelbock le strong ale le biere doppio malto e altri tipi di gusti che hanno un gusto più aromatico diciamo il bicchiere balloon invece permette di degustare al meglio birre ancora più aromatiche da meditazione quindi quelle birre che richiamano molto il gusto delle trappiste e le trappiste il flute sarà invece usato per degustare al meglio le pilsner quindi queste birre molto lupolate poi abbiamo la pinta inglese anche questo bicchiere esalta al meglio le tipiche birre inglesi e ha questa forma allargata vicino al bordo per far sì che la schiuma non fuoriesca ovviamente anche questo tipo di bicchiere molto caratteristico come il classico boccale tedesco che esiste in formati diversi quello da un litro forse è il più caratteristico anche quando andiamo a vedere per esempio immagini dell'oktoberfest o andiamo proprio all'oktoberfest questo boccale chiamato mass inoltre permette di conservare al meglio la freschezza di una birra cioè con questo boccale tendenzialmente si bevono appunto birre tedesche quindi birre chiare dal sapore luppolato tra l'altro permette di mantenere al meglio la freschezza è proprio ideato per mantenere la freschezza di una birra ma freschezza nel senso proprio di temperatura non solo freschezza di gusto quindi nonostante sia un boccale veramente importante perché comunque contiene un litro di birra riesce a mantenere al meglio la freschezza della nostra birra e il manico serve appunto per evitare di toccare e di scaldare con le dita la birra un fattore molto importante per quanto riguarda la degustazione di birra tra l'altro è il perlage che nel vino specialmente nello champagne è molto preleggiato e molto importante beh nella birra non ci deve essere questo perlage se sono presenti colonne di bollicine persistenti vuol dire che la birra che stiamo bevendo ha un'eccessiva presenza di co2 che non è buono quindi magari può anche essere in verità dovuto a un fatto di servizio per quanto riguarda il bicchiere si vede che non è stata versata la birra nel modo più corretto passiamo ora alle caratteristiche organolettiche della birra perché innanzitutto abbiamo i profumi e le note aromatiche la prima cosa da fare dopo aver versato una birra con la sua schiuma nel calice e nel bicchiere corretto è quello di annusarla ovviamente dobbiamo versare la birra portarla vicino al naso e capire quali sensazioni olfattive ci dà l'esame olfattivo regala un ampio spettro di considerazioni di gusti che possiamo in generale definire e categorizzare come lupolato fruttato maltato erbaceo e floreale questi diciamo che sono tendenzialmente i gusti principali che troviamo quando andiamo a fare un esame olfattivo della nostra birra per quanto riguarda invece la durezza l'intensità di questi odori abbiamo dei parametri che vanno da intenso leggero tenue persistente molto persistente e sfuggente dopo la sensazione olfattiva daremo sicuramente un'occhiata al colore della nostra birra perché i bicchieri sono trasparenti e cosa c'è di più bello che osservare il colore della birra che ha veramente mille sfaccettature e mille sfumature i parametri principali per l'esame visivo sono il colore appunto la limpidezza e la schiuma che si produce ovviamente versando la birra il colore che è molto legato alla tostatura del malto può variare e potremmo avere colori che vanno dal giallo paglierino al biondo brillante lambrato tendente al dorato lambrato con tonalità rossastre il ramato fino al bruno e allo scuro nero la limpidezza invece viene definita in termini di luminosità e torbidezza per quanto riguarda la schiuma invece può essere persistente scarsa evanescente cremosa compatta con colori che variano dal bianco latteo fino al bruno e al marrone scuro in base ovviamente al tipo di malto che andremo a scegliere passiamo ora alla parte più difficile per quanto riguarda la degustazione ovvero le sensazioni gustative le sensazioni gustative vengono apprezzate e vengono perfezionate con gli anni con l'esperienza un buon esercizio per imparare a degustare una birra e a riconoscere tutte le note è quella di prenderne bottiglie della stessa categoria coprire l'etichetta mescolarle farsela versare e senza sapere quale tipo di birra è ovviamente bisogna assaggiarla e capire e descriverne le sensazioni il gusto che caratterizza di più tutte le birre comunque è l'amaro quindi avremo diverse categorie di amaro un amaro persistente un amaro tenue comunque l'amaro viene caratterizzato tra l'altro anche da una scala come abbiamo già detto dal libu ovviamente in base agli stili e al tipo di birra avremo dei libu differenti l'amaro quindi può essere amarognolo amaro abboccato o amabile con vari gradi di persistenza e dopo l'amaro una volta ingerita la nostra bevanda avremo un retrogusto questo retrogusto è tutta quella sensazione che ci lascia tra naso e bocca che dà gusti più svariati possiamo avere il gusto di panificato e un gusto latte o veramente tantissimi tipi di gusto di banana di anice di liquerizia insomma tantissimi gusti che vengono definiti dai luppoli dai malti stessi e dalla fermentazione che appunto definiscono questi caratteri secondari che andremo a capire a percepire con il retrogusto che lascerà la birra in bocca esiste un diagramma sensoriare per la degustazione della birra in cui delle linee tratteggiate che partono dal centro in base all'intensità quindi al trattino che andremo a scegliere definiranno più o meno com'è la schiuma se persistente o meno com'è l'aspetto della birra quindi chiaro limpido l'intensità olfattiva la finezza olfattiva la frizzantezza il corpo l'amaro l'equilibrio gustativo la ricchezza retro olfattiva quindi il retrogusto e la persistenza retro olfattiva in base alle linee tratteggiate ai punti in cui andremo a collegare avremo diciamo un diagramma a stella che definirà ogni singola birra che noi andremo ad assaggiare ovviamente secondo il nostro parere da degustatori un'altra caratteristica molto importante per quanto riguarda la degustazione di birra è la temperatura di servizio che deve essere adeguata abbiamo delle lager delle pills che possono essere serviti tra i 5 i 9 gradi birre che possono essere servite a 10 11 fino ad arrivare ai 12 gradi ovviamente più la temperatura è alta più andremo a degustare una birra corposa alcolica ricca di aromi e particolarmente difficile anche da gustare ricca di aromi di sapori un segnale che indica se la temperatura di servizio è adeguata o meno è la schiuma infatti se la temperatura di servizio è troppo bassa quindi la birra è a una temperatura troppo fredda per la degustazione ottimale avremo una schiuma poco persistente se ne svilupperà veramente poca mentre se la temperatura è troppo alta per quella di servizio ottimale avremo un esubero di schiuma che non va bene e ci sta ad indicare proprio una temperatura di servizio errata quindi questo era il galateo birrario la degustazione birraria in poche parole io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube di schiacciare sulla campanellina per non perdervi neanche un nostro episodio e mi raccomando lasciateci anche un bel mi piace noi ci risentiamo venerdì prossimo con una nuova puntata di mike and beer ciao a tutti